Grazie ai fondi del piano di sviluppo rurale messi a disposizione della regione è stato finanziato con un milione di euro un progetto per potenziare la capacità di presa dell'impianto idrovuro in località Paglieta a Maccarese. È quanto si legge in una nota di Ambilazio, associazione nazionale e consorsi di gestione, che spiega l'obiettivo a garantire la sicurezza idraulica di una vasta estensione di terreni che, come sempre in caso di forti piogge, subiscono danni da allagamenti. Un secondo piano consentirà invece di completare la riparazione dell'impianto a Bagnolo nel decimo municipio. Ha messo in graduatoria, ma non ancora finanziato, l'intervento sulla struttura nella zona alla botte a Maccarese che presto però potrebbe ricevere il via libera. Sulla questione è intervenuto Andrea Renna, direttore generale del Consorzio Litorale Nord, che ha dichiarato «Oltre a tutelare aziende e produzioni preziose per il PIL agricolo regionale, interveniamo per elevare gli standard di sicurezza degli insediamenti urbani».